Dunque, dottor Orsini, a dicembre, dicevamo a Parigi, è stato firmato questo accordo che molti hanno definito storico. Che cosa prevede questa intesa innanzitutto e quanti dei 195 sono paesi firmatari, oltre a Cina e Stati Uniti, hanno già ratificato questo accordo? L'accordo è sicuramente un accordo storico che è stato firmato a dicembre perché prevede per la prima volta un impegno di tutti i paesi del mondo, e non solo di una parte, a limitare il riscaldamento globale, limitarlo al di sotto dei 2 gradi centigradi. Oggi siamo già a un grado e quindi riuscire a puntare anche a un grado e mezzo. Ora, perché ieri è stata una giornata fondamentale? Perché Cina e Stati Uniti hanno firmato insieme per la prima volta e da soli raggiungono il 40% delle emissioni mondiali. Quindi, siccome l'accordo diviene operativo quando firma il 55% dei paesi e delle emissioni, siamo già a buon punto dopo pochissimi mesi. L'Europa ha perso un po' il treno, è sempre stata la prima, adesso si è fatta superare. Speriamo che firmi presto anche l'Europa. Se si riesce entro un anno, quindi entro un anno dalla firma, entro la fine del 2016, ad avere il 55% dei paesi e delle emissioni, sarebbe un record storico. Pensate che il protocollo di Chioto precedente, che ha fallito, ha impiegato 7 anni ad entrare in vigore per poter essere firmato. Qui si parla di meno di un anno. Vuol dire che le cose stanno andando molto bene, ma vuol dire anche che c'è una forte pressione perché il clima sta peggiorando, i ghiacciai si sciolgono e bisogna fare molto in fretta. La Cina, che per rispettare questo impegno dovrà comunque tagliare le sue emissioni del 60% entro il 2030, questo rispetto ai livelli del 2005. Mi corregga se sbaglio. È giusto. Pechino che inoltre dovrà anche aumentare quelle che sono le fonti di energia non fossili. Quanto è realistico che ciò potrà effettivamente avvenire? È realistico se la Cina rispetta quello che ha dichiarato quando è andata a Parigi e si è impegnata per l'accordo. La Cina fino a poco tempo fa costruiva una centrale a carbone ogni due o tre settimane. Ora sta cambiando pagina. Ci sono due motivi per cui lo sta facendo e questi due motivi ci fanno pensare che sia realistico che accada. Primo, hanno un problema di inquinamento dell'aria nelle città, pazzesco, non si respira più nelle città cinesi e questo sta diventando un danno anche economico e sanitario per il loro popolo. Secondo, stanno investendo miliardi di dollari o di yuan, a seconda di come vogliamo vederla, nella green economy. Quindi loro hanno capito che il business del secolo è quello dell'auto elettrica, delle energie rinnovabili. C'è un discorso economico dietro questo impegno. Quindi io penso che sia realistico ma penso che non sia facile. Intanto diamo conto anche del fatto che il ministro Gentiloni parlava dell'Europa, parliamo allora anche dell'Italia. Il ministro Gentiloni ha detto che sta preparando la legge di ratifica anche per il nostro paese con l'obiettivo di portarla in aula entro il mese, entro settembre. Questo sarebbe insomma ciò che avrebbe detto Gentiloni. Il ministro Gentiloni è sempre stato sensibile all'ambiente anche nella sua esperienza passata, quindi se ce la fa è un ottimo segnale. L'Italia non può perdere questo treno. Noi abbiamo grosse potenzialità per la green economy, non è solo una questione di clima, è una questione di crescita delle nostre imprese. Per l'energia, per il riciclo e per tutta la green economy. Prima lo facciamo e prima andiamo avanti per la crescita sulla green economy. Altra notizia sempre che riguarda cosa intende fare l'Europa, l'Olanda invece fa sapere che entro pochi anni potranno circolare in quel paese, potranno essere in vendita in quel paese soltanto auto elettriche. Questa è una scelta importante, l'ha fatta anche la Norvegia. Dal 2020 non potranno essere immatricolate più auto diesel ma solo auto elettriche. È una scelta importante, si ritiene che entro il 2030 la maggior parte delle auto circolanti possono essere auto elettriche. L'Italia su questo è molto indietro. Lei pensi che oggi come immatricolazioni di auto elettriche stiamo sotto lo 0,5% anno? Dobbiamo arrivare al 40-50% in vent'anni. Ci vuole un grosso impegno ma dobbiamo farlo. Uno stravolgimento praticamente. Sì, però la rivoluzione è abbastanza facile come transizione perché i cittadini e le imprese sono pronti. È un po' il governo e il Parlamento che devono aiutare questa transizione. Torno per un secondo su Cina e Stati Uniti che dicevamo all'inizio sono i due paesi più inquinanti al mondo e mettono il 38% dei gas a serra insieme. Queste due economie invece quanto sono pronte ad abbandonare i combustibili fossili secondo lei? Sono entrambe pronte ma hanno entrambe degli ostacoli. Se posso permettermi il primo ostacolo che vedo è una possibile vittoria di Donald Trump negli Stati Uniti. Se vince Trump si rimette in discussione tutto. Trump ha dichiarato testualmente che i cambiamenti climatici sono un'invenzione dei cinesi per danneggiare gli Stati Uniti. Quindi questa cosa rimetterebbe in discussione tutto se vincesse Trump. Mentre Hillary Clinton ha una politica ambientalista ancora più spinta di Obama. Per cui questo è un primo ostacolo capire come andrà negli Stati Uniti. In Cina il problema è soprattutto il carbone. Le centrali elettriche a carbone che sono ancora tantissime hanno una vita abbastanza lunga. Dovranno dimostrare di poter abbandonare il carbone in breve tempo. Sinceramente non so dire se lo faranno. Le dichiarazioni del primo ministro cinese sono molto incoraggianti. Non ho mai visto una dichiarazione così a favore dell'ambiente e della green economy da parte di un primo ministro cinese. Spero che non sia come si dice greenwashing ma che sia invece un impegno serio. Staremo a vedere.